musica che città ragazzi è bello stessa video ma che c'è? vabbè ragazzi è bello stessa video oggi siamo in un nuovo video alla Balthus ma non è un video normale, era un video per TV che ho cambiato skin, si l'ho cambiata di nuovo dopo tanto tempo, ho cambiato skin come potete bene vedere ho cambiato il banner che ringrazio un sacco Red mi raccomando se non siete ancora iscritti Al suo canale iscrivetevi A lui perché è Un grande mi ha fatto il banner Del canale e anche l'immagine di profilo È un grande secondo me sono belle Non migliorare ma L'ho fatto veramente 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 bene e lo ringrazio Un sacco detto questo direi di Non perdere più tempo e andare in partita Ragazzi ditemi se più vi piace questa skin Allora a me piace un sacco è praticamente La mia immagine di profilo di youtube E di instagram e di tiktok Che vi ricordo di andarmi a seguire su instagram Tiktok e anche qui su youtube Naturalmente qua sotto in descrizione Trovate il mio tiktok e il mio instagram Oh regà ho messo double No vabbè amico Hai Ho scritto malissimo Allora Prendiamo subito un pochettino di cose Ok Allora copriamo il letto che l'ho già separato là Ma non so se magari arrivano altri Quindi per sicurezza copriamo il letto Ecco i bianchi Me l'aspettavo Ma c'era da aspettarselo Mi dispiace ragazzi se nello scorso video Non sono riuscito a mettervi A mettervi la texture in descrizione Ma mi dispiace ma non lo so fare Ho cercato dei tutorial su youtube Ma non li trovo E trovo soltanto tutorial su come scaricarle Le texture a metterle Veloce 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 Non è niente C'è Ragazzi Allora vi dico Sto registrando in massa Voglio continuare a registrare in massa i video Perché tra poco parto per le vacanze Anche se ci sto poco Parto per le vacanze E non avrete video Per qualche giorno Quindi Mi sto tartassando di video da registrare Così li edito tutti Prima di andare in vacanza Ovvero Entro domani Perché ragazzi sto registrando Voi lo vedete dopo questo video Ma io sto registrando Che giorno è oggi No volevo dire Mercoledì 18 agosto Quindi Entro domani Dove avere tutti i video pronti Siccome vado fuori città Faccio Il tampone E niente E poi parto E E in questo stesso giorno Cerco di editare più video possibili Oggi Cioè stesso Cerco di registrare più video possibili Ad esempio Cerco di registrare più episodio Alla million craft Per non farveli mancare E penso che uscirà Un video della million craft Alla settimana Perché A me è sempre sembrato facile Fare il role play Sto facendo Sto facendo una million craft Villa Mi sta Risultando complicato Riuscire Insomma è complicato Farlo Per questo lo farò uscire Uno alla settimana Perché Prima mi devono venire le idee Prima mi vengano le idee Devo fare i copioni Perché si ragazzi Io faccio i copioni Così mi organizzo Bene E vengono le cose meglio Dopo i copioni Si registra Prima che facciamo qualche prova Prima della rec E poi facciamo la rec Che poi Quella stessa rec Ce n'è una sola E va su youtube E niente Ora cerchiamo di vincere questa partita Perché vi ho detto tutto Quello che vi dovevo dire E cosa E cosa Sto facendo Mi prendo Mi prendo Un'ascia Non fateci caso Che sembro Un ippopotamo Gerardico Mica mia E niente Pensavo venisse Comunque ragazzi Vi devo dire la verità Io non urlo Come sentite voi Io urlo in un altro modo Non so No aspetta Facciamole solo Non so per quale Cavolo di motivo Il rec si sente Un'altra voce Completamente Io Ho un'altra voce Rispetto a quella Che si sente il rec Il rec sembra un bambino Di 8 anni Che fa youtube Solo che non ho 8 anni Ne ho molti di più di 8 Boh Non lo so Comunque presto Nel canale Penso che Troverete Vari unboxing Perché Mi sto preparando A fare vari acquisti Il primo acquisto Che farò Sarà una nuova sedia Perché Adesso Sovra pressione Starete vedendo Com'è ridotta La mia sedia adesso È ridotta ragazzi Veramente Ma veramente Male Penso che ne compro Appunto Una nuova Devo decidere Dove comprarla Se su amazon Su siti Insomma Oppure Se prenderla In negozio Però se la prendo In negozio Mi devo decidere L'ho comprato Dopo le vacanze Questo è sicuro Dopo che parto Appunto Torno In città E comincerò A cercare sedia Probabilmente E poi Ci saranno Varie acquisti Che in questo momento Non vi voglio Spoilerare Che saranno Buoni Molto buoni Miglioreranno Il mio canale Penso E Spero Spero Di non acquistare Inutilmente Questi appunto Prodotti Non ve lo voglio Spoilerare I prodotti Che prendo Poi Prodotti Sembra che Sono prodotti Per i capelli Ma come lo dico Ma Ma va bene Così Ma poi Ok E' meglio Che non canto Perché sono Stato Come una Giracca E Oh ma Porco Ragazzi ma No 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 Gerardo Puffo Cazzo di un Gerardo Cazzo di un Gerardo Mi aveva fatto salire sui nerd No c'è Cazzo di un Gerardo Cazzo di un Gerardo L'ultima Partita Perché Sennò Divento Un Gerardo Evoluto Pro Max Ultra Puffo Intanto ragazzi Voi Se siete nuovi Vi siete già iscritti al canale Avete lasciato like Mi avete falluato Su нравится e su Instagram, no, cioè, per chiedere per chiedere, per chiedere, in caso che non l'avete fatto se vi va, seguitemi su YouTube, magari anche su TikTok che faccio video carini e su Instagram che, Instagram anche no, perché non è che faccio chissà che, più su TikTok faccio cose carine, più divertente, che cioè, penso cerco di farlo un po' dire, anche se non so che non lo faccio perché Gerardo non fa ridere ed è quello che ripeto ogni c... di volta Giorno Giovanna hai scassato che non si può più dire Gerardo Carciopuffa Pazzo Tapptati Ti odio, mi stavi simpatico Poi come l'ho one-shotato cioè, troppo forte Mamma mia! Gerardo è un cincieto è un buco un gelato un po' un gelato unicorno E niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto in quel caso iscrivetevi attivate la campanellina e magari se vi va sfollowatemi anche sfollowatemi ma che cazzo sfollowatemi anche su TikTok e Instagram e niente spero di avervi fatto divertire detto questo ci sbacco a un prossimo video da Markex è tutto e ciao!